Fantastico, è un'emozione unica e riportare la Coppa Italia a Napoli è un sogno, bellissimo. Il sindaco Manfredi e l'assessora allo sport Ferrante hanno ricevuto a Palazzo San Giacomo la squadra della Gevi Napoli Basket che domenica scorsa a Torino ha vinto la Coppa Italia di pallacanestro battendo in finale l'Olimpia Milano che era data per favorita. La prima corsa è stata verso mia figlia che stava sugli spalti nella prima partita e quindi sono andato a abbracciare lei, sentivo forte questa cosa perché era un'emozione fortissima. Dopo 18 anni è un traguardo importante perché abbiamo vissuto 10 anni di fallimenti e abbiamo perso una grossa fetta di tifo dei giovani tra i 25 e i 40 anni e già aver riportato i giovani, lavorare con i giovani tutti i giorni è molto importante. Oltre al capitano della squadra Giovanni De Nicolao sono stati premiati l'allenatore Ivan Milicic e il presidente Federico Grassi. Si stanno verificando tutta una serie di circostanze favorevoli, abbiamo vinto lo Scudetto dopo 33 anni, abbiamo vinto la Coppa Italia dopo 18 anni che mancava a Napoli, per il momento godiamoci questa gioia e poi è una gioia per tutti i cittadini napoletani perché oltre al calcio a Napoli c'è un grandissimo tifo anche per il basket e quindi noi siamo ancora più contenti perché, sapete, portiamo sempre avanti la politica che è quella di far conoscere, di far praticare tutti gli sport, anche quelli cosiddetti minori oltre al calcio. A Napoli si fanno le cose impossibili, nessuno credeva che Napoli potesse vincere e devo dire che ero in contatto diretto col sindaco di Torino che devo dire ringrazio per chi ha tifaso per Napoli e poi dimostra che quando c'è professionalità, c'è passione, c'è talento e c'è coraggio alla fine Napoli vince sempre e credo che questa società e questa squadra abbiano rappresentato il meglio della città e noi siamo molto grati a loro.